E salve a tutti e vi ritrovate in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Vi presentiamo oggi una stupenda app chiamata Digitale Play, che è un'app volta a diffondere conoscenza a chiunque la scarichi. Dall'arte alla scienza, dalla filosofia alla psicologia, dalla letteratura all'economia. Sono il fulcro di questa applicazione. Il tutto ci viene raccontato attraverso delle conversazioni alla portata di tutti. Da premi Nobel e figure di grandissimo rilievo del territorio italiano. L'app è suddivisa in tre sezioni, ovvero i più visti, le categorie e gli ultimi arrivati. Tra le categorie troviamo dei grandissimi argomenti, come ad esempio la democrazia, la filosofia, l'economia, la psicologia, la scienza, l'arte e tantissimo altro. Insomma, un'app volta a nutrire la vostra mente. Andiamo a vedere subito come funziona quest'app. Ad esempio, apriamo questo video. Vi ricordo che necessita di una connessione Wi-Fi o 3G. la qualità è davvero ottima. Ma vi faccio vedere un altro esempio video sulla scienza raccontata dai grandi scienziati. portiamo avanti il filmato. E' Galileo. E' l'altro che è Pleo. Newton è, come abbiamo detto, il più grande scienziato e sicuramente colui che scrisse il più grande capolavoro della fisica di tutti i tempi, cioè di principia matematica. Non c'è più niente da dire su questa applicazione. Io vi saluto. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutte le informazioni relative a quest'app, con il link per il download e il prezzo dell'app con la recensione testuale. Vi saluto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui, con Apple, Zen e Mirko. Ciao!